Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Fallout Shelter, edizione italiana a cura di Asmode Italia, che ancora una volta ringrazio di cuore per avermene fornito una copia per la recensione. E ragazzi, grazie veramente, immensamente, è sempre un onore collaborare con voi. Grazie. Ispirato al gioco per cellulare e successivamente uscito anche per piattaforma PC, se non erro, su Steam, mi sembra. Ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Intanto, guardate bellina, tra l'altro questa parte qui sotto si leva, anche la stessa scatolina fatta tra l'altro di latta è molto bellina, perché ricorda una specie di piccola collector, infatti mi piace molto lo stile come l'hanno fatta e poi il classico cestino da pranzo della Voltec. Quindi per me, visto anche il prezzo contenuto, ma poi se ne parla alla fine, è un prodotto che dovrebbero avere proprio tutti i fan di Fallout, anche perché, ragazzi, ripeto, è bellino anche ad esporlo così, è veramente carino. Ed è il gioco ispirato alla variante videoludica, quindi principalmente per iPhone, poi usci per Android, mi sembra un annetto dopo, infatti lo aspettavo da morire, e poi uscito per PC. E vi dico la verità, qui apro una piccolissima parentesi, rispetto a Fallout 4 e Fallout 76, questo per me, Fallout Shelter, è il gioco più bello che abbia fatto la Bethesda negli ultimi 5-6 anni, una cosa del genere. Comunque, a differenza della controparte videoludica, che vi ricordate era un single player, con possibilità di esplorazione e tutto, questo è un gioco competitivo, ma non competitivo dove puoi andare a minare le mosse dell'altro. Praticamente la storia racconta che il soprintendente del vostro Vault è morto, quindi voi fate tutti i parti dello stesso Vault, e dovete costruire piano per piano. Vi ricordate le ascensori? E costruivi il piano. Ascensore e costruivi il piano. Ora, c'è un ascensore per giocatore, un ascensore per colore, appunto collegata ai vari giocatori, e ogni giocatore, sul suo piano, sul suo calore, sul suo ascensore, può costruire fino a 6 stanze, quindi fino a 3 da un lato e 3 dall'altro lato. Possono anche essere 4 e 2, comunque non ce ne possono mai essere più di 6. E chi costruirà il piano migliore, ma soprattutto avrà più punti, fedeltà e felicità, chi sarà eletto dalla gente e dalle regole del gioco appunto del soprintendente, migliore e diventerà il successore di quello difunto. Quindi si gioca tutti, non tanto uno contro l'altro, ma si cerca di fare più punti possibili, tutt'al più fregando, incastrando le mosse a quell'altro, ovviamente anche difendendoci da nemici che assalteranno il Vault, supermutanti, deathclaw e mostri del genere, che abbiamo visto anche nei videogiochi, dovremmo costruire il nostro non tanto il Vault quanto il nostro piano preciso e perfetto e quando avremo raggiunto tot punti felicità saremo eletti il nuovo soprintendente. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto unboxing. La scatolina è in latta, tra l'altro ha fatto anche in rilievo il disegno molto bellino, la vedete in classica copertina di Fallout Shelter, questa parte qui sotto si stacca, si leva. L'unica cosa che non mi è piaciuta, visto che è una cosa bellina e anche a tema, potevano fare, vedete c'è il disegno sopra della maniglia, potevano fare una maniglia vera e propria che la potevi vedere da qui, cioè sarebbe stata una cavolatina in più, però sarebbe stata molto bellina, però vabbè a parte questo è veramente molto divertente, secondo me anche ben fatto. Apriamo. Il regolamento di gioco, anche qui fatta a striscettina, è veramente veloce, spiegato decisamente bene direi e già finito, praticamente qua giù si fa la conta dei punti alla fine, e le regole ragazzi sono veramente poche e semplicissime. La tabella special, la plancetta per meglio dire special, divisa per colori di giocatori e vedete il classico special, dove sopra ci potete mettere degli omini specializzati appunto, che vi andranno a fare delle cose, a prendere dei punti particolari, di solito il doppio delle risorse, nelle stanze con queste lettere qua su, e poi tutte le risorse che potete andare a immagazzinare, che sono energia, acqua, cibo e poi qua giù tutti quanti le faccine della felicità, sono quelle che dovete guadagnare per vincere la partita. Cubettini di sorza, abitanti del vault, sono molto piccolini ma sono bellini, divisi per colore, tipo il giocatore giallo, il giocatore blu, il giocatore marrone e il giocatore bianco, tutte quante le carte, che vanno a comporre le varie stanze del vault, ricordo voi dovete costruire solo il vostro piano, carte equipaggiamenti, carte incontro, perché ci sono anche mostri da fronteggiare, e dall'altra parte appunto le carte equipaggiamento, e poi qua giù ci sono i due dadi da attirare, che serviranno per fare le prove, nella maggior parte dei casi, prove per provare ad aggiustare qualcosa, una stanza rotta, malfunzionamento e tutto quanto, o per combattere i mostri. La cosa principale, quando fate il setup iniziale, dovete preparare il piano, come vedete qua sopra, che è praticamente il primo piano, che ha beneficio di tutti i giocatori, e non deve essere costruito da nessuno, infatti vedete tre stanze a sinistra, e tre stanze a destra, da una parte e dall'altra, e c'è l'entrata del vault, la porta del vault, la zona contaminata e quant'altro, come avete visto nel videogioco, nella controparte videoludica. Poi dovete mettere tutte le ascensori, con il colore dei giocatori in campo, noi ora siamo il giocatore blu, che prende la plancetta special, più due abitanti del vault, del suo colore, e gli altri giocatori faranno lo stesso, plancettina e due abitanti del loro colore. Quindi abbiamo messo in cima e in alto, l'ascensore del blu, l'ascensore del giallo, e l'ascensore del bianco. Non cambia niente, è il piano dove siete, quindi le potete mettere dove volete. Il mazzo delle carte stanza, con tre carte pescate, che questa qui è la zona dove potrete acquistare, tra virgolette, per andarla a costruire. Mazzo dei mostri, che ve lo faccio vedere, incendio dei problemi e dei mostri, ve lo faccio vedere successivamente, e mazzo generico degli oggetti. Anche qui, come nel mazzo delle stanze, pescate tre carte e le mettete qui, come fosse uno shop. Queste sono le carte che si potranno andare ad acquistare. Ci sono tre fasi, che è generare minacce, le minacce sono queste qui, ma nel primo turno non si fanno, ve lo faccio vedere successivamente, collocare gli abitanti, e richiamare gli abitanti. Poi il primo giocatore gli date questo simbolino, quindi facciamo conto che come l'abbiamo messi qui il primo turno, quindi il primo giocatore è il blu, secondo giallo, terzo bianco, a partire dal primo giocatore, che è il blu, posizionerà un abitante, poi toccherà al giallo posizionarne uno, poi toccherà al bianco posizionarne uno, fino a che tutti non l'avranno posizionati, o non avranno passato. La terza fase è semplicemente quella di richiamare gli abitanti, quindi dove l'avete messi, alla fine del primo turno, scusate, del turno corrente li togliete e liberate il campo, deve essere tutto quanto libero. Per andare a posizionare i vostri abitanti, li potete posizionare ovunque vogliate, anche sulle stanze quelle in comune, o sulle stanze di un altro giocatore, che ora vi faccio vedere, posizionandoli nei riquadri. Quindi se il riquadro è già preso, che ne so, da un abitante blu, l'abitante giallo potrà prendere quest'altro spazio, che è qui. Però, se l'abitante giallo volesse andare a prendere questo posto, che è invece occupato all'ascensore dall'abitante blu, non lo potrà fare assolutamente. Quindi, se il posto è già preso da qualcuno, non può essere più preso, almeno che la figura lì non si sposti nel turno successivo. Quindi è importante anche vedere chi ha l'iniziativa. Dove vedete questo simbolino qui, con la testa fasciata, di solito è l'infermeria, dove i personaggi che sono stati sconfitti durante, unicendo un combattimento con un mostro, vanno a finire. E sono fuori gioco fino al turno successivo. Quindi, quando vi finisce lì, è tipo un'infermeria, non lo potete più prendere. Spostandovi nelle stanze, quindi nei riquadretti che vedete, andate sempre, sempre, sempre a prendere la risorsa che c'è scritta sopra. Quindi, vedete, se io mi metto l'omino qui, prenderò il bonus che è qui. Se lo metto qui, prenderò il bonus che è qui. Se mi metto qui, prenderò questo. Con la differenza che, dove non c'è un costo, prendo direttamente il bonus che c'è sopra. Quindi, prendo il bonus che c'è qui. dove invece c'è una richiesta rossa sotto, vuol dire che devo fare una spesa per poter prendere questo qui. Nella fattispecie, andando qua giù, io devo levare tre cubetti di cibo. Quindi, fate conto che io qui avessi tre cubetti di cibo. Li dovrei andare a sprecare, a togliere, li rimetto nel cumulo in comune, e prendo un nuovo abitante del vault. Lo vedete? Che praticamente questa è l'entrata. Stessa cosa qui, dovrei consumare un ferito, vedete? Uno di cibo, uno di acqua, per prendere un abitante del vault. Invece, dove c'è questo simbolo qui, vuol dire che se mi metto alla porta del vault, piglio il cursore, il token del primo di turno, del capo turno. Quindi, praticamente, nel turno successivo sarò il primo che si muoverà, e poi, vedete qua giù, do uno special di livello L al mio personaggio, qui. Quindi, vuol dire che il mio personaggio progredisce di livello, e praticamente questo mino qua giù, bisogna ricordarci che, di metterlo qua, a fine del turno, quindi per ora lasciatelo qui. Nella fase finale, nella terza fase del turno, quando dovete levare tutti gli omini che avete posizionato, gli abitanti del vault lo mettete sull'L, per ricordarci che ora lui ha l'abilità con l'L. Questo cosa vuol dire? Questo personaggio qui, con l'abilità L, quando lo spostate in una stanza che ha una lettera, prenderà il doppio del bonus che ci ha segnato sopra. Quindi, se io dopo lo dovessi mettere qui, non prenderò un cibo, ma ne prenderò due. Nel caso invece non avessi l'abilità L, prenderei semplicemente uno di cibo. Quindi ce li potete anche mettere, anche se non avete una delle lettere dello special, però non prendete il doppio. Se lo mettessi su A, invece di prendere due, e avessi la lettera A dello special, prenderei quattro di cibo. Andando qui, invece, prendo energia. Ogni volta che prendete qualcosa, semplicemente prendete i cubetti, e aggiornate qua giù in fondo. Se una riga arriva fino in fondo, e non potete più mettere i cubetti, non ne potete più prendere. Non è che vanno scartati, o vanno nelle riserve. No, no. Quando è in fondo, non potete più prendere niente. Se un giocatore occupa una casella, non può essere occupata da un altro giocatore. Se, invece, un avversario occupa una delle vostre strutture, vi deve pagare una risorsa a sua scelta. No, vi deve pagare. La prenderà dal mucchio in comune. Quindi, se io, durante la mia fase di costruzione, metto un omino qua giù, vedete che mettendo un omino qua giù, mi va a fare queste cose qui. Quindi, cosa mi va a chiedere? Mi va a dire che prenderò punti felicità, che sono questi. Quindi, li prendo e li metto dalla mia parte. Ogni volta che c'è una faccina sorridente, vuol dire che prendo punti felicità. E, ovviamente, vado a costruire. Quindi, nella zona dell'ascensore, mi dà la possibilità di costruire una stanza. Le stanze le posso prendere da queste qua, su che ci sono. E, anche qui, ancora una volta, se hanno delle cose rosse in basso, vuol dire che il costo. Quindi, io, per andare a costruire un centro medico, dovrò usare tre risorse di energia. E il punto interrogativo vuol dire una risorsa di quelle che mi pare a me. Posso scegliere. Quindi, le devo avere, ovviamente, qui. Tutto quanto, se le ho, la vado a costruire. Subito, appena la costruisco, da qui se ne pesca un'altra, si tira fuori, come nel gioco della Fantasy Flight, e devono sempre essere tre in cima. Stessa cosa, quando si finirà in una casella che ci darà la possibilità di andare a prendere, vedete, qua giù, della roba di loot. Di solito, gli oggetti di loot si possono prendere in delle stanze particolari o, come vedete, all'esterno, perché, uscendo per andare nella zona contaminata, si trova del loot. Stessa cosa, insomma, loot che vi dando bonus, al tiro di dado, e cose varie. Quando vado a costruire una stanza, mi ci posso successivamente spostare, per prendere, ancora una volta, le risorse che sono qua su in cima, anche nel caso uno Steam Pack, e anche qui progredisco di livello e cose del genere, però ricordatevi sempre che tra l'altro il centro medico ci possa anche andare a mettere i feriti, come vedete qua su in cima, nel caso vengano abbattuti, ricordatevi sempre che dovete pagare le risorse qui per costruire la stanza e quelle sopra per poter prendere il bonus. Se un altro giocatore dovesse utilizzare la mia stanza, prenderà il bonus che c'è sopra, mi precluderà la possibilità di usare la mia stessa stanza, ma io, dalla riserva, andrò a pescare qualcosa e metterlo qua su. Una risorsa di mia scelta. Quando si arriva nella fase che vi ho detto all'inizio, ah, scusate, poi nella fase finale si toglie tutto, quindi finito il turno si rimuovano tutti gli omini e si riparte da zero, quindi ricordatevi anche gli omini in più che avete preso, tipo qua su. Poi, avremo l'equipaggiamento, avremo tutto quanto, quando arriva la prima fase, quella degli incontri, dovremo andare a pescare da questo mazzo qua giù, ovviamente si tira fuori, prendo un mostro a caso, lo scorpione radiattivo e le regole del gioco dicano che c'è da fare un tiro con i dadi, questi qua giù, per vedere dove compare. Quindi questo mostro qui potrebbe comparire in un qualsiasi piano, perché bisogna fare un tiro di dado che ci fa vedere qual è il piano e qual è la stanza attuale dove finisce, ovviamente se dovessi finire in una stanza che non c'è, meglio per voi, non va da nessuna parte. Se dovessi finire in una stanza dove c'è già un mostro o va nella casella accanto o se non c'è più posto non può, in questo caso qui, nemmeno entrare. Comunque mettiamo caso che vada a finire su questa casella qua giù, quindi mettendocelo sopra vedete che lui adesso è in questa casella qui e questo mostro per essere combattuto dovete fare un risultato di 8 o più, ovviamente tirando si tirano sempre due dadi più l'equipaggiamento ci viene incontro perché se avete un fucile, se avete qualcosa che vi dà un bonus al tiro potete tranquillamente usarlo per ucciderlo. Andiamo a fare il combattimento, per fare il combattimento ce lo mette sempre una miniatura sopra, un abitante del Volt e una volta che l'avremo sconfitto potremo prendere una risorsa al nostro piacimento e prenderemo ancora una volta un punto felicità. Sia chiaro che dovete, se non lo uccidete rimane, quindi anche nei turni successivi il mostro rimane lì, non è che va a giro si sposta, però vi blocca la stanza. Perdonate piccola parentesi, qua giù non guadagna uno steampack ma viene guarito, quindi quando metterete un personaggio come ho detto ferito in questa casella qua giù automaticamente verrà guarito, quindi dal turno successivo lo potrete riutilizzare. Quindi come detto fino a che le minacce non verranno rimosse rimarranno lì e vi bloccheranno la possibilità di usare quella casella o quella stanza. In questo caso comunque abbiamo un'altra casella accanto ma se fosse stata una casella da uno con un solo posto non potevamo più utilizzarla. E ragazzi bene o male il funzionamento del gioco è tutto qui. È una gara al punteggio e arrivati in fondo dopo un tot di turni o quando il primo giocatore mette tutte e sei le sue stanze si finisce il turno corrente e alla fine si fa la conta. Chi ha più punti felicità ha vinto. In conclusione è il gioco che abbiamo visto appunto su cellulari e su computer. Differisce un pochino perché quell'altro era single player mentre questo qui invece è un gioco competitivo. Non è per niente un gioco collaborativo. Voi dovete calcolare solo il piano che andate a costruire però come avete visto potete mettere uno dei vostri abitanti una delle vostre pedine anche sul piano di un altro giocatore per andargli a rubare quella risorsa che voi in quel momento serve ma magari anche non vi serve però fate un surplus ma la bloccate a lui però gli dovete pagare una tassa. Cose già viste regole già un po' non viste in Everdale ad esempio se andavate ad usare la fabbrica di un altro giocatore o la città o l'industria di un altro giocatore potevate utilizzarla gliela bloccavate però dovevate pagare una tassa e qui il funzionamento è bene o male lo stesso quindi voi dovete ingegnarvi per costruire il vostro piano perfetto e avere più punti felicità possibile le carte sono belline lo spirito di Fallout si respira veramente da morire mi garba come hanno disegnato anche le carte che poi le carte messe accanto sono praticamente le varie stanze del vostro piano è tutto molto bellino e il richiamo ovviamente a Fallout è grandissimo infatti per quello che vi ho detto vuoi disegni delle carte vuoi una cosa un'altra vuoi anche questa piccola collector io da fan di Fallout mia amore da fan di Fallout l'avrebbe preso a parte siamo giocatori di board game non avremmo fatto un cane del genere ma l'avremmo preso anche se fossimo stati soltanto fan di Fallout perché è veramente bellino quindi se devo dare un voto a un progetto del genere nell'insieme poi le regole sono talmente veloci che io penso in 5 minuti le spiegate non c'è nemmeno bisogno di un giro le spiegate punta e basta e rimangono anche facilmente in testa un gioco del genere assolutamente se le devo dare un voto le do un 9 su 10 meritatissimo secondo me farà la felicità di tutti i fan di Fallout e di quelli che cercano a parte lo vedete ce l'ho anche qui dietro c'ho Fallout Wasteland Warfare che è il war game di Fallout e poi l'altro gioco della Bethesda della Fantasy Flight che invece è quello più a livello GDR con grande parte dedicata alla narrazione e cose del genere questo secondo me è il terzo gioco non nemmeno tanto filler proprio io mi sento di dire un gioco a parte che ci si incastra veramente molto bene bellino è veloce è anche decisamente competitivo le tattiche sono abbastanza e secondo me dove lo mettete lo mettete farete divertire quindi 9 su 10 meritatissimo vi ricordo che se lo volete ordinare da Board Game Discount link in sovrimpressione e primo link in descrizione al miglior prezzo sul mercato se a volte non lo avessero nella lista mandate un messaggio privato al supporto gli dite guarda Board Game Discount guardate arrivo dal canale di Coridan sarebbe possibile trovare questo gioco fuori dalla lista non solo faranno il possibile per trovarvelo ma se ve lo troveranno sarà anche al miglior prezzo sul mercato e magari facendo presente che arrivate nel mio canale vi tratteranno anche con i guanti quindi andate a vedere fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima grazie a tutti